Il tema che svolgeremo in questa lezione riguarda la bellezza e il rapporto tra bellezza e verità in Tommaso d'Aquino. Si tratta di un argomento abbastanza complesso, quindi non è molto semplice, la presentazione richiede quindi un minimo di articolazione e di riferimento ai testi di Tommaso per far emergere lo spessore della trattazione del tema del bello, bellezza in Tommaso. La prima cosa da ridevare è che in Tommaso il bello, in latino il termine pulcrum, è un termine usato con un'estensione di significato che va tenuto a presente, cioè la bellezza avvistata è quella che contrassegna tutti gli enti in quanto entrano nella conoscenza e suscitano un accordo tra l'ente in esame e la mente che lo conosce. Un accordo che desta piacere, che produce una sensazione di armonia tra soggetto che conosce e oggetto conosciuto. Piacere e armonia sono espressione della bellezza. In questo senso, Tommaso, ecco questa è una prima precisazione diciamo tecnica ma importante, Tommaso include il bello tra i concetti trascendentali, che sono le proprietà che caratterizzano tutti gli enti in quanto enti, che non si limitano quindi alle note che si possono rilevare attraverso la conoscenza sensibile, ma richiedono un oltrepassamento dal sensibile verso l'intedigibile, verso la riflessione filosofica sull'essere. I trascendentali appartengono all'ontologia, altra parola un po' difficile, ma appunto significa la dottrina dell'essere, la scienza dell'essere. Partiamo da un primo testo che ci aiuta a comprendere la direzione in cui va il pensiero di Tommaso. Il testo è contenuto nella Somma Teologica, la prima parte, la questione quinta all'articolo 4, dove Tommaso distingue tra il bene, bonum, che è un altro trascendentale, e il bello, il pulcrum. Ne do una traduzione libera, cioè traduco il passo di Tommaso in modo da renderlo nel linguaggio più accessibile a noi. Il bene e il bello, a livello del soggetto che li detiene, sono la stessa cosa, perché entrambi si radicano nella forma, e per questo il bene viene apprezzato come bello. Ma c'è una differenza concettuale. Il bene, infatti, propriamente riguarda l'appetito o desiderio, e si dice buono ciò che tutti desiderano, e così realizza il carattere di fine, perché l'appetito può essere letto come il movimento con cui si tende ad una cosa. Il tendere alla cosa significa tendere a un fine. Il bello, invece, riguarda la facoltà del conoscere, dato che vengono dette belle le cose che piacciono quando sono viste. Ne segui che il bello consiste nella debita proporzione, dato che il senso trae diletto dalle cose ben proporzionate di cui avverte la somiglianza con se stesso. Anche il senso è una forma di ragione, al pari di ogni potenza conoscente. Siccome la conoscenza avviene attraverso un processo di assimilazione, e la similitudine riguarda la forma, il bello concerne propriamente la causa formale. Ecco, in questa specificazione della differenza tra il bello e il buono, si vede come Tommaso sposti l'accento relativamente al bello sulla conoscenza e all'assimilazione che nel processo di conoscenza avviene della forma dell'oggetto conosciuto. Abbiamo anche sentito che Tommaso inserisce nel cammino verso la costituzione del concetto di pulcrum di bello, i sensi, il livello dei sensi. E il livello dei sensi è considerato importante perché già a quel livello noi assistiamo a un processo di assimilazione, cioè un processo di assunzione intenzionale. I sensi non prendono l'oggetto materialmente, ma lo prendono intenzionalmente. Le specie sensibili influenzano, determinano la conoscenza sensibile. Poi dal livello dei sensi si passa alla conoscenza razionale. E abbiamo sentito perché a livello della conoscenza intellettiva o razionale o della mente, perché si realizzi la bellezza, si deve realizzare la debita proporzione, un'intesa armoniosa. Tra che cosa? Tra la rappresentazione dell'oggetto. Nel linguaggio di Tommaso e degli scolastici la rappresentazione intenzionale dell'oggetto nel soggetto è chiamata specie, specie. Noi tradurremmo oggi correttamente immagine, immagine intenzionale dell'oggetto. Quindi c'è un'intesa tra la specie, sua immagine intenzionale, e la facoltà conoscitiva. Nel caso dell'intelletto è l'intelletto di chi conosce che sviluppa una struttura accogliente nei confronti dell'oggetto conosciuto. Passiamo ora a un secondo testo di Tommaso, testo più noto. Quando si presenta il pensiero estetico di Tommaso si fa riferimento soprattutto a questo testo, ma come vedremo se preso isolatamente non è sufficiente a esprimere il pensiero di Tommaso, va integrato con altri passi e altri passaggi. E' sempre un testo della Somma Teologica, la prima parte, la questione 39, l'articolo 8. Per la bellezza, scrive Tommaso, si richiedono tre doti. In primo luogo integrità o perfezione, poiché le cose incomplete, non integre, proprio in quanto tali sono deformi. Quindi, successivamente, si richiede debita proporzione o armonia tra le parti. Finalmente, in terzo luogo, si richiede chiarezza o splendore. Difatti, diciamo, belle le cose dai colori nitidi e splendenti. Ecco, questo testo, ripeto, è quello più sfruttato. Tommaso dice, ma queste cose che abbiamo letto e che vi riassumo adesso sono presenti in tutta la tradizione classica quando si parla di bello. Quindi Tommaso qui fa una specie di riassunto e fa proprio le note della bellezza che gli provengono dalla tradizione classica greca e latina. Le tre doti richieste sono l'integrità, la perfezione, non manchi qualcosa, non ci siano imperfezioni, la debita proporzione, che ci sia un'armonia tra le parti e poi ci sia chiarezza o splendore. È un termine abbastanza sfruttato nell'estetica di Tommaso anche da parte dei teologi che trattano l'estetica teologica, la claritas. La claritas è lo splendore, ma perché si dia splendore e perché venga colta integrità e l'armonia, la cosa importante che Tommaso dice, e prima di questo testo che abbiamo letto e subito dopo, è che tutto questo entri in una visione, sia visto. L'oggetto che ha queste doti è bello quando è visto, visa placent. Destano sensazione di bellezza, di piacere nel senso di bellezza, nella visione. Allora, la visione non è solo quella dei sensi, quella dei sensi è quella iniziale, ma non è quella determinante per stabilire questi riferimenti, per poterli verificare. È la visione dell'intelletto. Nel linguaggio di Tommaso la visione, il vedere è una proprietà fondamentale non solo degli occhi, ma soprattutto dell'intelletto nell'uomo. Quindi si realizza nella conoscenza la bellezza quando le cose che possiedono le doti che abbiamo detto, placent, visa, in quanto entrano nella visione. Ripeto, non basta la vista con l'occhio, ma necessita la visione con la mente, una visione che è un'apprensione, una conoscenza. Il bello è ciò la cui conoscenza produce piacere. Potremmo anche usare una formula più facile da memorizzare. Una cosa non è bella perché suscita piacere, ma suscita piacere perché è bella, cioè suscita piacere nella visione che la accoglie, nella conoscenza dell'intelletto dove la cosa viene conosciuta. E se riportiamo questo suscitare piacere all'attività sviluppata dall'oggetto bello, il piacere definisce la bellezza di una cosa, ma la cosa è bella per le sue prerogative ontologiche. Torniamo al punto che dicevamo prima, ossia al suo riferimento alla costituzione reale. E a questo punto arriviamo a sviluppare il nesso che abbiamo messo nel titolo, il rapporto della bellezza con la verità. Il nesso forse vi sarà già risultato chiaro dal fatto che Tommaso insiste nel dire che l'apprensione della bellezza avviene a livello intellettuale, quindi a livello di conoscenza. E la conoscenza è valida quando è vera, quindi quando produce verità. Qui c'è una trattazione che è peculiare di Tommaso, almeno nel modo in cui cercherò di riassumere, non si trova negli autori contemporanei, è proprio specifica di Tommaso. Tommaso dice che nel soggetto che conosce la verità delle cose si produce un processo di assimilazione. La verità che è nelle cose però è presente prima nell'intelletto divino che non solo conosce le cose, ma è un intelletto che istituisce, noi diciamo crea l'essere delle cose. Dio conosce le cose nella misura in cui conferisce loro l'essere. Dunque nell'intelletto di Dio le cose manifestano il loro vero essere e la loro congenita bellezza, la perfetta assimilazione tra soggetto che conosce e oggetto conosciuto. Un piccolo inciso, abbiamo introdotto in modo rilevante il termine Dio e conoscenza di Dio in un discorso che presentiamo come filosofico. Ora, il concetto di Dio usato nella filosofia di Tommaso rientra in quel discorso per cui Tommaso parla di teologia razionale o teologia filosofica. Cioè nella sua concezione del modo di pensare alla metafisica, questo discorso che abbiamo appena fatto, cioè il riferimento a come Dio conosce le cose e come Dio conoscendole le crea, è un discorso avvalorabile anche filosoficamente. Non è un discorso solo di teologia rivelata. Allora il rapporto con la verità è a un livello di ontologia e anche di teologia razionale. la novità quindi di Tommaso riguarda il modo di intendere il trascendentale bello. Non basta l'intuizione dell'oggetto, dall'intuizione si passa alla analogicità. Un altro termine è un pochino difficile. Vuol dire che bisogna sviluppare una selezione delle immagini e ricordarsi, soffermarsi a pensare che c'è differenza tra la modalità del conoscere di Dio e la modalità di conoscere dell'uomo. Dio ha conoscenza diretta dell'oggetto rappresentato. L'uomo deve arrivare a selezionare le immagini raccolte nella memoria e riconoscendo queste immagini nella memoria arriva a verificare il rapporto di consonanza, parlavamo di assimilazione, cioè si crea un accordo intrinseco tra intelletto e oggetto. Questa riflessione la possiamo minimamente approfondire ancora appoggiandosi seppure velocemente a un altro testo di Tommaso dove Tommaso precisa che l'essere delle cose sta in relazione all'intelletto in una differente situazione rispetto al bene, rispetto alla bontà, perché la bontà produce l'amore, mentre il bello è ciò che è prodotto dall'amore. Come accade questo, vi chiederete? Accade perché secondo Tommaso il buono determina, va incontro all'appetito, al desiderio e quindi lo soddisfa, ma il bello soddisfa l'appetito perché è l'oggetto che esibisce amore o desiderio nei confronti del soggetto, non è solo il soggetto che ama l'oggetto. Quando io conosco, è chiaro che io voglio conoscere un oggetto, esprimo un desiderio, un amore per quell'oggetto e lo voglio assimilare. Ma nella situazione del trascendentale bello, Tommaso ritiene che è anche l'oggetto che manifesta amore verso il soggetto. Questo è un concetto importante nell'estetica di Tommaso, filosofica e teologica, l'ha spiegato magistralmente un teologo del Novecento, Hans Urs von Balthasar. Von Balthasar ha proprio fatto vedere come il bello è ciò che è prodotto dall'amore che il soggetto manifesta nell'accogliere nel proprio spazio intenzionale l'oggetto e insieme dall'amore che l'oggetto, la cosa che assimiliamo, mostra, l'amore che l'oggetto mostra nei confronti del soggetto, perché l'oggetto si rende disponibile, l'amore verso il soggetto è questa disponibilità che le cose, gli oggetti, gli enti hanno a farsi conoscere, a essere conosciuti, a essere trasferiti nell'orizzonte dell'immagine intenzionale e del verbo mentale. Quindi concludiamo anche questo punto che riguarda il tema che sentirete nella trattazione del bello da parte di molti altri filosofi del passato, cioè prima di Tommaso della modernità, cioè il tema del desiderio. In genere si dice che il bello è ciò che suscita il desiderio. È una definizione che possiamo in generale considerare buona, però suscitare il desiderio e se come Tommaso facciamo equivalere il termine desiderio col termine amore. Il bello è ciò che è prodotto dall'amore. È l'amore del soggetto conoscente per l'oggetto, ma anche l'amore dell'oggetto per il soggetto, perché si lascia, si porge, si offre al soggetto per essere conosciuto, quindi in qualche modo esprime il suo desiderio di essere conosciuto. Allora questo amore dell'oggetto per il soggetto al quale si fa conoscere, assieme all'amore del soggetto conoscente per l'oggetto, producono la bellezza. Quindi la soddisfazione del desiderio non è quella della vulgata quando si dice il bello è ciò che piace. Le cose sono belle e perciò piacciono e perciò suscitano il desiderio. Non sono sufficienti le note che spesso nelle vulgate più tradizionali sulla bellezza, le cose belle intuitivamente, direttamente suscitano il desiderio. Sono belle le cose che si fanno desiderare per le doti che evidenziano. Ecco, il pensiero di Tommaso, riassumendo, si innesta in due percorsi. Il fondamento ontologico, cioè la forma dell'oggetto conosciuto che desta bellezza nel soggetto, e nell'amore che è reciproco tra soggetto e oggetto che si manifesta quando l'oggetto è conosciuto dal soggetto e quindi la bellezza è nella verità. La conoscenza adegua la conoscenza oggetto da parte del soggetto e l'incontro del soggetto con l'oggetto e questa è l'armonia, la soddisfazione formale, quindi anche qui siamo a livello di metafisica, di ontologia dell'essere e del conoscere, per stabilire cos'è che è bello per Sant'Ommaso. Una considerazione conclusiva, collocando questo pensiero di Tommaso sulla bellezza in rapporto alla tradizione platonica, tutti ci rendiamo conto che i platonici puntavano più sull'intuizione diretta, ma l'intuizione diretta nel platonismo a sua volta faceva leva sul fatto che l'oggetto sensibile rinvia all'oggetto intelligibile, al cosiddetto mondo ideale, cioè alla bellezza ideale, alla bellezza superiore. Questa intuizione diretta attraverso il sensibile del bello, Tommaso la prende in considerazione ma non la considera adeguata, sufficiente per stabilire il concetto di bellezza. L'intuizione diretta per Tommaso non valorizza il suo pensiero sul bello, il suo pensiero sul bello passa attraverso la conoscenza e la conoscenza intesa secondo i moduli della struttura del conoscere che Tommaso assume da Aristotele. Perciò la conclusione che andiamo a fare è proprio questa, una specie di bilancio collocato storicamente. Questo pensiero di Tommaso segna, per quanto riguarda la concezione del trascendentale bello, ma anche degli altri trascendentali, segna la fine di quello che possiamo chiamare l'allegorismo universale, cioè il modo di pensare il mondo della natura fino a quando è entrato il pensiero di Aristotele in occidente, sino al XII secolo compreso. Il mondo della natura è considerato una grande allegoria. I testi che trattano della natura sono i lapidari, i lapidari che vanno a vedere quali sono le proprietà occulte o recondite o simboliche delle pietre, oppure i bestiari. a che cosa rispondono gli animali, nel senso perché questo animale è presente in natura, perché ha lo scopo di simbolizzare, di allegorizzare una virtù, un processo virtuoso, eccetera. O anche nelle enciclopedie si faceva leva sugli odori, sapori, profumi, eccetera, per creare il mondo della bellezza. Questo mondo dell'allegorismo, quando arriva Aristotele e viene assimilato, e con Tommaso siamo dopo la metà del XIII secolo, l'assimilazione è avvenuta, allora non conta più il simbolismo per studiare il mondo della natura e la bellezza della natura, ma conta la concezione ilemorfica di Aristotele, cioè il fatto che la realtà va studiata nella la sua costituzione reale di materia e forma. È un naturalismo non più allegorico, ma ilemorfico. Chiaramente Tommaso non respinge, non rifiuta i sensi spirituali o le allegorie, ma il senso letterale, la natura vale per quello che è, per quello che si mostra. Prima veniva chiamata la natura una foresta di simboli. Ecco, con Tommaso e la lettura dell'ontologia della dottrina ilemorfica materia e forma di Aristotele, la creazione, il mondo naturale, cessa di essere una organizzazione di segni, ma diventa una produzione di forme. L'aristotelismo insiste sulla forma concreta delle cose. Pensate all'arte gotica, l'arte gotica che ricepisce questo, sui capitelli troviamo dei tralci, troviamo dei virgulti, troviamo fiori, troviamo foglie, non troviamo simboli, troviamo riprodotti gli oggetti naturali. E anche sui portali vengono descritti gesti quotidiani, quelli dei mestieri, dei lavori, quindi del mondo della natura, così com'è, le forme che nella natura emergono. Ultimissima considerazione che credo si sia captata nei passaggi che abbiamo sviluppato, è arrivato assieme all'aristotelismo, è arrivata una grande attenzione agli studi fisico-fisiologici, cioè per trattare della visione occorre avere capacità di studiare anche la dottrina della trasmissione della luce, del funzionamento dell'occhio, della fisiologia della vista e della psicologia della visione. Quindi abbiamo visto che Tommaso tiene conto anche di questa psicologia della visione che riguarda le esigenze dell'occhio nell'atto di fruizione estetica. Queste caratteristiche che abbiamo visto come egemoni sul particolare, l'integrità, la debita proporzione, l'armonia, la chiarezza splendore, potevano essere considerate come immediatamente soddisfacenti l'apparizione da parte dei sensi. Questa era prevalente nell'estetica antica. Nella lettura che abbiamo fatto di Tommaso, la simmetria delle parti dell'oggetto bello deve tener conto dell'euritmia, cioè della bellezza che appare perché è adeguata sia alle esigenze dell'occhio sia alla struttura ontologica della forma del soggetto che conosce e dell'oggetto conosciuto. Grazie 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 Grazie